Non c'è da niente? Regà, in diretta da Circonvalazione Appia, è successo praticamente dieci minuti fa io stavo andando a lavoro, e nonostante prima, guardate che cosetta va, ecco le strade della nostra città, faccio una bella diretta così, mi rendete conto, ci saranno sei, sette metri di buca, se c'è cade in cristiano dentro c'è crepa, guardate che roba, si si me levo me levo, hai capito si come stiamo, in che condizioni stiamo qua, guardate un po' che cosetta, carina, guardate, guardate, rendete conto dove stiamo a camminare, che è, mi saluto qua, ci andiamo al lavoro. Grazie. 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 Grazie.